Non poteva mancare il primo cittadino di Ischia, Enzo Ferrandino, alla ricorrenza di Sant'Anna qui alla chiesetta con la cerimonia religiosa. Allora, Sindaco, questa è una tradizione che si rinnova da anni. Sì, siamo nella fase sacra della festa di Sant'Anna, quella che la tradizione vuole come una sfilata delle partorienti che vengono qui presso la chiesetta di Sant'Anna e partecipano alla celebrazione della Messa e questa sera sarà ufficiata dalla Sua Eccellenza il Vescovo. Oralmente è una tradizione consolidata da tanti tanti anni e qui siamo tutti quanti qui riuniti e abbiamo obbedito a quella che è la strada che la tradizione ha tracciato. Certamente da qui poi partono i festeggiamenti in onore di Sant'Anna che vedranno il clou domani sera lì al piazzale del Castello Aragonese. Mi sembra uno spettacolo meraviglioso il luogo dove noi celebriamo l'Eucaristia e il Signore ci dà grazie ogni anno di stare qui e di pregare per la vita perché Sant'Anna ci ricorda l'amore alla vita, ci ricorda la fecondità. Noi stasera pregheremo perché i genitori abbiano ad osare nell'avere dei figli, siano coraggiosi perché i figli sono un grande dono di Dio. Certamente, io ogni anno vengo qui perché c'è questa bellissima funzione con il nostro Vescovo di Conostro anche se io sono di Milano perché sono una persona che è da tanto tempo che risiede qui. Signora, lei invece dischia? Io sono dischia, anche io sono un'abitura così, per tradizione vengo e mi fa piacere e come ha detto la signora, lo scenario è incantevole e piacevole. Sì, è una tradizione, è una cosa veramente che uno la sente anche dal cuore, dal profondo del cuore. Ringraziamo coloro che hanno organizzato questa cosa bellissima e veramente che è emozionante, emozionante perché è qualcosa da provare, ecco, è un'emozione che ognuno dovrebbe provare nella vita. Sì, allora, io vengo qui perché sono in attesa al nonno mese, è una bimba, si chiamerà Anna, è proprio in devozione di Sant'Anna e siamo qui per prenderci la benedizione anche del Vescovo con tutte le mie amiche partorienti e fare una nuova esperienza anche religiosa. Io sono entrata appena nel settimo mese ed è un maschietto, sono qui perché sono stata coinvolta anche perché Sant'Anna è sempre stata vissuta con una tradizione isolana ma non sapevo di questa devozione verso la maternità e quindi ci tenevo tanto perché sono legata alla Chiesa. L'intento di questa mostra itinerante nasce dal desiderio di riportare, di mettere in rilievo l'importanza della sacralità di questa festa, quindi Sant'Anna che è il simbolo, la protettrice delle partorienti, quindi ho voluto ritrarre dieci ragazze, dieci partorienti nei luoghi simbolo della festa. Non solo le partorienti ma anche i volti storici, i luoghi, quindi il castello, la torre, la baia e il borgo di Schiaponte e la preparazione del pasto di Sant'Anna.